Moment Act contro New Team 2023, prima giornata della Summer Futsal Cup 2024, grande attesa per l'esordio della compagine di Fabio Sorrentino che si prevede possa essere tra le candidate al successo finale. Subito avanti la squadra in maglia nera con Marco Carta, poi Luca Isola, botta sicura, ottima la risposta da parte di Yuri Kalay, il 2-0 rimandato di pochi minuti a realizzarlo e Andrea Girau che recepisce dopo la corta respinta dell'estremo difensore avversario. 2-0 per il moment al termine del primo tempo, veramente poca New Team in campo, con le immagini possiamo passare alla ripresa che si apre con l'immediato gol del 3-0 della formazione padrona di casa realizzato da Gianmarco Carboni. Subito dopo arriva anche il poker, l'autore e patron Fabio Sorrentino quindi finalmente decide di farsi notare pericolosamente la New Team. Qui Palverio Menis dal limite, va vicinissimo al gol che sarebbe stato della bandiera, gol che arriva ma da quest'altra parte a realizzarlo è Andrea Girau, punteggio oramai pesantissimo. La New Team non ci sta a farsi prendere a Pappini, allora Jimenez col destro, dal lato destro nella rigore, ottima la risposta da parte di Nicola Onis. Da quest'altra parte arriva anche il sesto gol della moment, a realizzarlo è Luca Isola, poi Girau da fuori, va vicinissimo a realizzare quello che sarebbe stato un gran gol. Il numero 17, il gol arriva da quest'altra parte a realizzarlo è Fabio Serra che prima colpisce il palo da posizione defilatissima, poi andrà a segno dal limite dell'area di rigore. Finale dal campo Fiore Verderame di Cagliari, Moment Act parte bene battendo 6-1 la New Team.